Venerdì 8 febbraio, nuovo appuntamento con la rassegna stampa Fidas, ben ritrovati, scopriamo insieme com'è andata questa settimana nel mondo del sistema sangue e dell'associazionismo del dono e cominciamo con una notizia che ci viene da Rai News, un bel servizio realizzato da Gerardo D'Amico, le bufale sul sangue e le false richieste di dono del sangue che girano sul web, Gerardo D'Amico ha intervistato il direttore del Centro Nazionale Sangue Giancarlo Maria Liumbruno, in 4 minuti è riuscito a sintetizzare quanto Fidas ripete almeno da 10 anni, per cui complimenti al collega. L'eco di Bergamo di questa mattina in Europa ha chiesto più sforzo per il plasma. Un incontro a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, l'European Blood Alliance Hiba, il network dei servizi trasfusionali nazionali responsabili della raccolta di sangue, ediamo componenti da donatori volontari e non remunerati nei paesi membri dell'Unione europea. Si sono ribaditi alcuni punti chiave della donazione di sangue a livello europeo, la gratuità, la volontarietà e l'eticità del gesto, ma è stato chiesto anche ai paesi dell'Unione europea uno sforzo maggiore per promuovere la donazione di plasma e l'utilizzo di farmaci plasma derivati provenienti da plasma etico. Libro.it, emofilia A tra standard di cura e nuove terapie nel fattore ottavo, anche in questo caso si parla di un congresso che si è svolto a Praga. Durante il simposio Building on the Standard of Care, l'Earthest Innovation in F8, organizzato da Bayer in occasione del congresso IAD, è stato presentato un farmaco la cui approvazione in Italia è prevista intorno al mese di agosto. Mark Reding, il capo ricercatore del progetto dell'Università del Minnesota, sottolinea come questo farmaco permetta di adattare la frequenza di somministrazione in base al fenotipo emorragico, proteggendo così i pazienti dalle emorragie che tanto li preoccupano. Ancora la dottoressa Sant'Agostino, responsabile dell'unità operativa semplice emofilia presso la fondazione Cagranda, l'ospedale maggiore di Milano, sottolinea come per il paziente emofilico tutto questo si traduce in una maggiore protezione dai sanguinamenti con un numero inferiore di infusioni. Passiamo invece alla rassegna associativa, quello che è successo, che ha coinvolto le associazioni e sezioni FIDAS sul territorio nazionale. Partiamo dalla provincia di Torino, il Canavese riporta l'attività della FIDAS di Lombardore e Riva Rossa, due piccoli centri a nord di Torino, studenti a scuola di dono, si sottolinea come, al di là del risultato positivo raggiunto alla fine di gennaio in occasione di una raccolta, ma che per il sessantesimo della FIDAS l'attenzione è rivolta alle nuove generazioni con il concorso a scuola di dono. Davvero tante sono le associazioni che sono riuscite a coinvolgere gli istituti di scuola primaria, di secondaria e di primo grado, degli istituti superiori per questa iniziativa, per questa scuola di dono. Ricordiamo un'iniziativa che ha coinvolto tutte le associazioni FIDAS d'Italia, tra poco avremo i termini per quanto riguarda l'arrivo dei lavori, le premiazioni a livello provinciale, poi la premiazione finale che verrà fatta appunto nel congresso di Matera, come ricordato appunto anche dal Canavese. E sempre rimanendo nella stessa zona, in questo caso però sul sito canavese.it, oltre mille donazioni per il gruppo FIDAS di Rivarolo Canavese, un gruppo estremamente vitale guidato dal Presidente Fabrizio Gallo, che resta tra i più attivi della provincia, come confermato dai numeri che hanno caratterizzato il 2018. Ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia, siamo in provincia di Pordenone a Sacile. La FDS di Sacile e l'ADO del Friuli Venezia Giulia, protagoniste di una stagione teatrale, hanno presentato le attività di sensibilizzazione del dono del sangue legate appunto alle rappresentazioni teatrali nel piccolo teatro della città di Sacile. Il Presidente della sezione locale, Quirino Messina, ha sottolineato come il 2018 è stato un anno difficile, un calo del 10% rispetto all'anno precedente, una situazione che riguarda però la cittadina di Sacile, in quanto la provincia complessivamente ha avuto invece un bilancio positivo. L'Arena di Verona, siamo nella provincia scaligera, donazioni in aumento anno d'oro per la FIDAS, in questo caso i dati si riferiscono alla sezione di Salizzole, incremento del 4,5% rispetto all'anno precedente, un trend positivo che prosegue interrottamente dal 2012, come ricorda appunto il Presidente della sezione Luca Guarnieri. In Veneto la voce di Rovigo, FIDAS e Giovani, si pensa in grande, l'articolo di Luigi Ingegneri ricorda la presentazione delle attività da parte della coordinatrice della FIDAS Polesano, Alessia Vassalli, il cui obiettivo prioritario resta proprio quello di avvicinare altri nuovi giovani donatori, tema fondamentale per garantire continuità alla raccolta di sangue e all'associazione stessa. Un lavoro, dice la coordinatrice, ci dà meno certezze, lo studio impegna molto, coordinare entrambi ci risulta impegnativo, ma sicuramente un grande entusiasmo da parte del direttivo di questa associazione, rappresentata dal Vicepresidente Mirko Mottana, che ha ricordato le principali iniziative in corso, tra cui appunto il concorso a scuola di dono e il progetto a scuola guida con FIDAS. Il resto del Carlino, siamo in Romagna, nell'edizione Ravennata, Ravennata ci racconta brevemente alcune esperienze di donatori, perché da Ravenna la metà delle donazioni del territorio, del territorio romagnolo, quindi pollice alto per il sistema sangue dell'Ausl Romagna, autosufficienza garantita grazie alla collaborazione dei donatori e delle associazioni di volontariato, quindi ricordiamo anche in prima linea la DVS di Ravenna, tra delle 54.820 unità a Ravenna ne sono state raccolte oltre 21.500, una situazione complessivamente stabile, il sistema sangue grazie alla preziosa collaborazione tra servizi trasfusionali e associazioni, federazioni di volontariato del territorio, alla sensibilità dei donatori riesce comunque a garantire l'autosufficienza romagnola. Concerto per la vita, la notizia di qualche giorno fa sul quotidiano del Sud, sappiamo che in questo momento Matera davvero brulica di iniziative, ce ne sono tante perché è la capitale europea della cultura e tante attività che coinvolgono anche i donatori di sangue come questo concerto per la vita. Ricordiamo che a fine aprile saremo a Matera proprio per il congresso nazionale FIDAS, in questo caso la FIDAS Matera ha organizzato questo evento musicale, ma un evento che ovviamente vuole anche portare alla sensibilizzazione dei cittadini e di quanti concorrono in questa meravigliosa città nel corso del 2019 per promuovere e incrementare la donazione di sangue. Vero è risposta all'emergenza, la Gazzetta del Sud, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, a Reggio Calabria è un'iniziativa che ha visto coinvolte Aspem, Avis, il sindaco cittadino, l'ospedale metropolitano. Il risultato è stato raccolto anche grazie alla presenza dei giocatori della regina che hanno donato in prima linea l'appello lanciato appunto dal dottor Trimarchi, il direttore dell'unità operativa di medicina trasfusionale del grande ospedale Regino. È intervenuta in merito anche Caterina Muscatello, la presidente dell'Aspem. Il mio è un appello accorato, ha sottolineato la presidente, è necessario che oltre all'apprezzamento per le iniziative ci siano persone che vengono a donare. Il nostro intento è far capire alla cittadinanza che c'è bisogno di una risposta concreta sulla donazione del sangue perché è un momento di grande drammaticità. E concludiamo con un'altra notizia che viene dalla Sicilia, i diciottenni, una lettera di benvenuto e un invito, l'iniziativa riportata ieri dall'edizione catanese della Sicilia è una lettera firmata dal sindaco di Tre Mestieri, siamo in provincia di Catania e da Salvatore Caruso, il presidente della sezione ADVS FIDAS, per dare il benvenuto nella maggiore età a quanti compiranno 18 anni nel 2019. Ovviamente con la maggiore età si assumono tanti diritti e doveri, ma tra questi si ricorda anche la donazione del sangue che lo abbiamo detto più volte è davvero un dovere civico. Con questa notizia io mi fermo, vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi do appuntamento a venerdì prossimo.